Quando ci siamo visti in conferenza stampa, Andrea, ti vedevo in quel modo carico, concentrato e anche felice per il successo. Mi veniva in mente l'immagine tua di gioia, di quel gol con la maglia del Bologna che hai messo al Parma. Una soddisfazione quasi. Le soddisfazioni sportive sono tutte intense. Fai go o che vinci un trofeo importante, ti esplode qualcosa dentro, l'adrenalina aumenta. Ma è giusto così, non riesci a controllare il corpo quasi. È stata una cavalcata incredibile, una stagione per me durata tre mesi, ma come fosse un anno e mezzo, di intensità. Ho cercato di vivere tutto intensamente e ci sono riuscito perché è stato veramente insieme a miei collaboratori, alla squadra, a Navarrini, Volpe, al direttore Tromboni, anche a Presidenti perché a ogni fine partita mi chiamavano, a tutta la società è stata una cavalcata bellissima. Hai nominato la battaglia totale, Carrara, la città fortunata per Andrea Susi, due ritorni importanti. Sì, due settimane fa abbiamo vinto, ci ha dato la consagrazione della vittoria del Girone e allora ci ha dato la conquista della salvezza, diciamo che porta bene Carrara. Mi ricordo di un'intervista fatta insieme alla tua amica Daniele Berti, quando dalla tribuna avete, come dire, beccato il capitano Amaranto di quella squadra, intanto non va mai scoperto. No, no, quelle sono storie da ragazzi, c'era il calcio d'angolo, noi c'era curva, io e Daniele, e si riprese un giocatore che non marcava l'uomo dentro l'aria, addirittura siccome c'era ancora il curvino, e lui ci rispose perché non c'era tanta gente, poi era uno di quelli che ci accompagnava in macchina dallo stadio alla stazione. Ma sulla base proprio di questa esperienza, sarebbe opportuno la prossima Primavera 3, la domenica, portarli in curva, proprio per quell'attaccamento alla maglia, quell'attaccamento al calcio? Questi ragazzi ce l'hanno avuto, siamo tornati dal pullman, sapevano tutte le canzoni di Ultras, hanno cantato a squarciacolla da Modena all'Arezzo, no, questi ragazzi ce l'hanno avuto senza appartenenza. Poi noi dello staff abbiamo fatto anche delle piccole cose, dei video, per aumentarla questa, ma sicuramente si sono sentiti attaccati sia alla città che alla maglia che alla società. E' il maestro, in campo il maestro d'orchestra è te, e sul pullman chi era il maestro d'orchestra? Il maestro d'orchestra è Cristiano Telli, con il telefonino sul microfono a dettare le danze. Anche perché lui l'ha vissuta, diciamo, un'esperienza importante con la maglia amarancia. Certo, ma lo staff era tutto all'Arezzo, quindi potete immaginare, c'è sempre qualcosa in più, quando vivi la città, sei nato all'Arezzo, dai sempre qualcosa in più. Bene, adesso aspettiamo questo primo luglio, l'open day, è il giusto riconoscimento della città dell'Arezzo, a questa, ad Andrea Sussi e ai suoi ragazzi. Penso che i ragazzi Sussi non meritato, ripeto, hanno fatto una cavalcata incredibile, hanno fatto 14 vittorie e due pareggi in campionato, e una vittoria e un pareggio alle finali. Io terrei a sottogliare ancora come hanno vinto la finale, perché chi mi ferma mi dice, mi sono divertito tantissimo, anche io, però se perdevo un po' meno. Certo, grazie Andrea.